L'Emilia-Romagna è la regione italiana che ha il più alto numero di prodotti dopo IGP, 44 del cibo e oltre 30 del vino, quindi è un grande patrimonio anche di carattere economico perché su 7 miliardi di euro che le dopo IGP rappresentano nel nostro paese, oltre 3 sono fatti in Emilia-Romagna. Noi dobbiamo sostenerne la produzione, dobbiamo proteggerli anche dalle imitazioni che a volte subiscono nel mondo, ma dobbiamo soprattutto farli conoscere ed apprezzare sempre di più. Il palinsesto che abbiamo presentato oggi è molto ricco di eventi, siamo riusciti a metterlo insieme nonostante le difficoltà del Covid, saranno delle grandi occasioni per presentare il meglio della nostra enogastronomia. Il binomio e la collaborazione fra il turismo e l'agricoltura in questa regione ha delle radici molto solide, naturalmente il buon cibo, i prodotti di qualità, le eccellenze, le dopo e le IGP sia del cibo che del vino sono da questo punto di vista un grande elemento di attrattività, perché il cibo, il buon cibo, è sicuramente uno dei principali attrattori ed è una di quelle cose che fanno scegliere le persone di andare in una determinata località piuttosto che in un'altra. Contiamo davvero che il buon cibo possa rappresentare davvero un elemento importante per la ripartenza di questo settore economico che nella nostra regione pesa per quasi il 15% del PIL e quindi va valorizzato e sostenuto con grande spinta e grande energia.